Dipendenti degli uffici comunali più varie e delle esternalizzate, prima ancora della protesta indetta insieme alle forze sociali e a partire dal primo pomeriggio, hanno sentito il bisogno di raggiungere Piazza Italia in centinaia, tutti davanti a Palazzo San Giorgio a protestare. Obiettivo numero uno, avere certezze sugli emolumenti pendenti e ancora di più garanzie sul futuro, specie sugli organici delle partecipate e la loro stessa sopravvivenza. Capire perché la delibera commissariale numero 35 del 29 novembre scorso abbia colpito nel portafoglio proprio loro le maestranze, congelando la PEO, cioè la progressione economica orizzontale, per via delle clausole contrattuali riconosciute illegittime, si legge in delibera, dagli ispettori ministeriali. Poter avere risposte dirette, per una volta non mediate dai soli rappresentanti sindacali, dalla stessa triade guidata da Vincenzo Panico, è poi naturalmente un profondo bisogno di riconoscimento, di dignità. Dopo due o tre ore di convulse proteste in piazza, dopo le 13 è arrivato il momento del confronto con i tre commissari. Panico, Castaldo e Piazza hanno interloquito con i lavoratori per singola società mista o singola area, badando a tenere rigorosamente fuori tutta la stampa, trattata come una sorta di cenerentola, proprio mentre più Reggio Calabria vorrebbe risposte chiare e credibili ed esaustive possibilmente. Alle 14, come già preannunciato nei giorni scorsi, va in scena la seconda parte di una protesta che stavolta non pare davvero facile da domare.